Ciao, sono Luca, ho 22 anni e sono il gestore della LavaPiù di V1023 a Riccione. La scelta di LavaPiù nasce appunto da questo negozio e dall'esigenza che abbiamo riscontrato di avviare un'attività che fosse poco impegnativa, in quanto ognuno di noi, la nostra famiglia in generale, ha già un'occupazione. Quindi LavaPiù è nata appunto da questa esigenza unita al fatto di volersi differenziare, e quindi di creare un'attività che nella zona di Riccione ancora non è presente. Allora, i tre maggiori vantaggi della nostra attività sono la disponibilità, quindi diciamo la disponibilità appunto che diamo al cliente nel caso appunto cui rilevi delle necessità, delle difficoltà di igiene, in quanto riteniamo che se la persona deve lavare i propri vestiti, è necessario nell'ambiente in cui questi vestiti che vengono lavati, siano appunto sia un ambiente igienizzato, pulito, profumato. E ovviamente il marchio Miele, che è un marchio che parla da sé, che facciamo sinonimo di sicurezza dal punto di vista del lavaggio e garanzia appunto di una pulizia fondita. Miele ci ha aiutato molto, soprattutto anche nella fase di progettazione e di avvio, e tutt'ora ci aiuta e ci consiglia determinate scelte e determinate iniziative da avviare nella nostra lavanderia. Gestiamo questa lavanderia da circa tre anni, e che sia ogni giorno come se fosse il primo giorno, perché c'è sempre da imparare e siamo contenti, fino a questo momento, della nostra scelta, anche grazie alla clientela che abbiamo fatto. Consiglierei l'investimento ad un futuro gestore, perché riteniamo che questa attività sia un'attività facile da avviare e abbastanza semplice da gestire. Oltretutto, la lavapiume in generale aiuta i propri gestori e permette loro quindi di gestire l'attività in modo migliore possibile, posto che loro appunto fanno questo di mestiere, quindi SAM, come gestire lavanderie. Oltre a questo abbiamo macchinari di alto livello, che permettono quindi una pulizia approfondita, e che quindi sono sinonimi di garanzia e sicurezza.